La televisione di Stato iraniana ha affermato che le guardie rivoluzionari hanno sequestrato domenica scorsa una petroliera stranera a sud dell'isola di Lark, nello stretto di Hormuz, che divide il golfo persico dal golfo dell'Oman. Secondo l'Iran, la petroliera, che si pensa possa essere panamense, stava cercando di trasportare un milione di litri di carburante di contrabbando, arrestati anche 12 membri dell'equipaggio, di cui però non si conosce ancora la nazionalità. Grazie.